Buongiorno e grazie di essere quest'oggi qui per, come detto nell'invito, fare il punto sul carcere. Voi sapete che la comunità di San Vito è stata particolarmente attenta, coinvolta, partecipe di questo obiettivo, cioè quello di mettere a disposizione della intera comunità regionale, in particolare del Friuli Occidentale, prima un sito che è stato individuato nella caserma d'allarmi e successivamente della realizzazione del carcere. Come tutti sanno l'ente locale non ha diretta competenza e tuttavia noi siamo stati quell'ente locale che prima di tutto ha voluto fortemente questa infrastruttura, cogliendone la rilevanza, la necessità e l'importanza. E dall'altra anche avendo avuto la possibilità di offrire un sito che era già di per sé un sito del demanio. Perché la storia della caserma d'allarmi è una storia che riguarda un apprestamento militare così come tanti altri che erano nell'elenco inserito del decreto legislativo che avevo fatto, all'epoca ero, consentitemi di dirlo, Presidente della Commissione Paritetica e facemmo proprio quel decreto con cui una serie di apprestamenti militari che avevano superato i dieci anni potevano essere trasferiti dallo Stato alla Regione e direttamente agli enti locali. Alla luce anche di questo noi onde, come dire, evitare di consumare suolo e quant'altro, indicammo e fummo ascoltati quella sede, dopo varie vicende che qui non riprendo, per poter realizzare il carcere. Questo in rapporto al fatto, poi meglio di me dirà la dottoressa Iannucci, che ringrazio per essere qui quest'oggi, direttrice reggente del carcere di Pordenone, così come porto qui i saluti del dottor Quagliotto, già precedessore della dottoressa Iannucci, dicevo che le condizioni del carcere di Pordenone erano inaccettabili sotto qualsiasi punto di vista, tant'è che si arrivò alla minaccia di chiuderlo per evidenti limiti dal punto di vista igienico-sanitario. E credo che ci fu una vicenda in cui comunque ci furono varie testimonianze. Io ringrazio qui, tra l'altro, i rappresentanti della Camera Penale, l'Avvocato De Risio, così come l'Ordine degli Avvocati, che abbiamo invitato ugualmente rappresentati, che sono stati in qualche modo protagonisti della denuncia per molti versi, delle condizioni in cui non soltanto i detenuti, ma anche le guardie penitenziarie che vivevano. Ecco perché ci siamo particolarmente impegnati. E devo dire che eravamo giunti a capo di questo quando, brevemente lo dico, si instaurò con il governo Monti una figura proprio per far fronte a quella che all'epoca era considerata un'emergenza carceraria, quella del commissario. Ed ecco il commissario che poi si andò alla realizzazione del primo appalto e alla assegnazione, alla associazione temporale di impresa, che vedeva, tra l'altro, imprese del territorio, per la realizzazione del carcerario. Incominciarono i lavori nella sede deputata prevista, dopodiché ci fu un ricorso da parte della seconda giunta e la prima seduta, il Tar, respinse il ricorso. Dopodiché ci fu ricorso al Consiglio di Stato della Pizzarotti e il Consiglio di Stato accolse tale ricorso. E lì incominciò un'altra serie di ricorsi al Consiglio di Stato, cosiddetti per ottemperanza e via di seguito. Insomma, alla fine, avendo il Consiglio di Stato detto, sentenziato che doveva subentrare la Pizzarotti, la stessa Pizzarotti ovviamente ha ritenuto di non subentrare perché avrebbe espresso la sua disponibilità a subentrare se la somma che veniva era quella della loro offerta e non già dell'appalto che aveva vinto. Era una differenza insomma parecchio, erano quasi 8 milioni e ovviamente questo portò al fatto alla fine che la Pizzarotti non aderì all'idea di subentrare. Voi capite che tutto questo tempo è rimasto bloccato perché ovviamente le vicende e così via. Nel frattempo la figura del commissario purtroppo è stata superata dal governo Renzi, se non ricordo male, su richiesta all'epoca perentoria del Movimento 5 Stelle, un errore a mio avviso, che permise di dover riprendere da capo ogni cosa. Ma in ogni caso, dopodiché ci fu tutto a cura del provveditorato all'Europa Repubblica, in particolare di Trieste, e fin quando ovviamente è andato perfino in pensione anche il nuovo provveditore, anche con tutte le vicende che ci sono state. Fin quando, recentemente, diciamo, dopo l'ultima vicenda, quella cioè dalla quale la Pizzarotti non intese subentrare, proprio per questa differenza, se che possiamo dire, di risorse che lei riteneva di dover avere, siamo arrivati a una decisione molto importante, assunta dal provveditoro Triveneto alle opere pubbliche, la dottoressa Cinzia Zincone, con cui si è arrivati al nuovo bando, al nuovo bando di gara. Il nuovo bando di gara, che, come sapete, è uscito e che prevede una serie anche di termini, a mio avviso, stringenti positivamente e che fanno, ci auguriamo, ed è il motivo per cui siamo qui, possono far ben sperare. È aumentato anche il valore. In base di gara siamo a 39.851.000 e devo dire che il termine per le offerte è previsto per il 9 settembre, quindi molto celeri. Questo è positivo perché indica della volontà da parte di questa articolazione del Ministero delle Infrastrutture di procedere alla realizzazione. Noi salutiamo, lo abbiamo detto, lo ribadiamo con grande soddisfazione questo dato che comunque ci mette nelle condizioni di poter dire che forse siamo o abbiamo intrapreso il percorso giusto per poter arrivare alla realizzazione del carcere. Per la nostra comunità ha un grande senso, sia perché, come dire, in qualche modo noi l'abbiamo voluto tutti quanti, che tutto il Consiglio Comunale si è speso per quanto riguarda questo, sia perché sicuramente rappresenta una risposta importante a tutta l'intera comunità del Friuli occidentale, perché è la vera, reale, necessaria alternativa all'attuale carcere ubicato, come sapete, in un vecchio castello a Pordenone. Io credo anche che questa è una risposta alle tante volte che le rappresentanze delle guardie penitenziarie hanno preso proprio per avere un luogo, un luogo non soltanto sicuro, ma soprattutto un luogo agevole dove poter svolgere la loro attività. Ma questo significa anche, quindi l'interesse credo non possa non esserci anche per gli altri attori, perché significa, lo ringrazio, abbiamo avuto il messaggio del Presidente del Tribunale, il quale non può essere presente, tuttavia mostra grande interesse per questo, così come poi sentiremo la Procura della Repubblica, qui rappresentata dal Dottor Fachin, interessata, che più volte ci ha chiesto in merito a questo. Ecco, quindi siamo, diciamo, in una condizione nella quale, proprio visto che siamo al 9 di settembre, che non è lontano per quanto riguarda le offerte, noi abbiamo voluto questo momento proprio per illustrare le attuali condizioni. A me dispiace molto che l'ingegner Iovino non possa essere presente, ma tuttavia, vi do lettura, problemi familiari mi costringono a partire urgentemente e non posso partecipare all'incontro. Mi dispiace davvero, perché avevo organizzato tutto per partecipare a questo incontro pubblico. A noi ovviamente dispiace che l'ingegner Iovino non possa essere presente, tuttavia, il ingegner Iovino ha detto che depositaria di ogni aspetto è la dottoressa Iannucci, ma comunque il punto vero è che i dati principali sono stati qui, in qualche modo, già riportati. Voglio subito dire che chi ha piacere di avere il bando di gara è qui a disposizione. Ecco, abbiamo voluto, oltre alla dottoressa, perché testimoni ovviamente le condizioni in cui c'è la necessità del carcere, anche il presidente Ance Friuli Venezia Giulia. Ma perché? Perché noi pensiamo che debba, come dire, esserci l'attenzione da parte dei costruttori del Friuli Venezia Giulia rispetto ad un appalto, credo che sia il più sostanzioso attualmente presente e che possa vedere la partecipazione anche delle nostre, tra virgolette, imprese, anche magari associate fra di loro. Ma questa è una decisione che prendono. A me interessa dire che è importante che siano presenti. Ma perché dico questo? Perché noi fin dall'inizio abbiamo detto che un'opera che viene a essere realizzata deve necessariamente coinvolgere anche il territorio. Ci pare utile e importante. E anche alla luce di questo, allora, il contributo che ci vorrà dare il presidente Contessi sarà anche di merito rispetto al, come dire, al banto medesimo. Ecco, questo è, come dire, il quadro entro cui si colloca questo appuntamento. Cioè, prima anche gli organi di formazione, che a me è la prima cosa che chiedono, ma quanto tempo. Io mi, come dire, mi accontento di vedere l'avvio dei lavori. Ovviamente già l'altra volta c'erano stati l'avvio dei lavori. E poi c'erano stati. Ma mi auguro che con questa riforma cosiddetta della giustizia ci sia qualche miglioramento rispetto alla possibilità di procedere e di procedere speditamente e non di essere sempre in qualche modo fermi e bloccati. Ecco, questo è quanto. Allora, adesso darei così. Io darei subito la parola alla dottoressa Iannucci, che ringrazio ancora una volta. Ecco, apporto a lei in particolare i saluti del dottor Sbriglia, che essendo, mi ha detto, appisa, corro, ma non so se riesco a fare in tempo ad essere presente. E a lei poi sentiremo il presidente Contessi, poi sentiremo il dottor Facchin. Allora, la parola alla dottoressa Iannucci, che ringrazio. Grazie. Buongiorno a tutti. Anche io ringrazio il signor Sindaco per l'invito. Dico subito che sono da pochissimo direttore incaricato della Regenza della Casa di Circondariale di Pordenone, da metà maggio di quest'anno. Quindi anche la mia conoscenza della realtà pordenonese è in realtà in itinere. Prima il sindaco mi invitava un po' a rappresentare quelle che sono le difficoltà che quotidianamente siamo chiamati un po' a dover affrontare nel nostro lavoro giornaliero. Effettivamente la struttura di Pordenone è una struttura pressoché fattiscente. Ci sono difficoltà non solo per la criticità proprio di alcuni aspetti strutturali, ma anche per la carenza di spazi che possono essere utilizzati sia dal personale che dalla popolazione detenuta. Mi spiego meglio. Probabilmente il carcere di Pordenone, risalendo come costruzione ad anni e anni or sono, risponde ad una logica che non è più quella che la mia amministrazione oggi intende perseguire. Risponde più a una logica custodiale fondamentalmente, quindi un po' a quella che era una logica panottica di un istituto in cui il personale era chiamato soltanto ad osservare e a custodire, ma non a intervenire per cercare di realizzare percorsi di reinserimento delle persone detenute. E quindi gli spazi destinati alle attività scolastiche di formazione professionale o anche alle attività lavorative sono effettivamente esigue. Se non esigui anche gli spazi destinati agli uffici dove il personale possa operare. Sono lontane dalla logica di oggi le camere di pernotamento, oggi non si dice più celle, forse non sempre la forma equivale a sostanza, ma qualche volta forse dovrebbe essere così. Chiamiamo camere di pernotamento quelle che sono le stanze dove i detenuti passano per lo più la maggioranza del loro tempo, proprio perché vi sono difficoltà a poterle impiegare diversamente. Le camere sono camerotti di più o meno posti dove, ad esempio, non esiste neanche la doccia all'interno del bagno che è attiguo a dove le persone dormono. Ora, non è l'unico carcere, voglio sottolinearlo, in cui questo avviene. Purtroppo il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, uscito nel 2000, che entro cinque anni avrebbe dovuto prevedere la possibilità di realizzare le docce all'interno delle singole camere, in tutti gli istituti della nazione non si è proceduto a questo adeguamento. Però noi abbiamo un reparto docce con alcune postazioni dove i detenuti vanno a effettuare la doccia ogni giorno che, ad esempio, oggi necessita di interventi di ristrutturazione, perché c'è anche questo, continuare a mantenere in vita un istituto come quello di Pordenone, cercare di garantire almeno delle condizioni accettabili, se non dignitose, come prima ha detto il sindaco, per continuare ad avere un minimo di condizioni accettabili è necessario che alcuni interventi vengano fatti. Quindi, ad esempio, adesso si interverrà sulle docce per cercare di sanare alcune perdite, alcune situazioni. Anche il Comune di Pordenone sta intervenendo sulla rete foniaria, che interessa anche in qualche cosa l'istituto penitenziario. Ci sono delle infiltrazioni nei tetti, a cui bisogna comunque sopperire fino a quando non ci sarà una struttura adeguata. Quindi è comunque una struttura che impegna ancora finanziariamente e non dà però, in compensazione, non dà gli standard di qualità a cui un carcere, sembra un po' una contraddizione in termini, dovrebbe essere chiamato a rispondere. Anche per lo stesso personale c'è una caserma che non è degna di questo nome, perché alcune unità di personale potrebbero in realtà alloggiare nelle stanze della caserma e questo non sono gli standard previsti, non sono rispettati gli standard previsti dagli accordi quadro che sono stati fatti dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria. Gli uffici sono piccoli e quando arrivano i nuovi operatori, come in questo caso, abbiamo delle difficoltà, oltretutto complicate, dall'emergenza Covid a tenere i giusti distanziamenti, a dare delle postazioni adeguate ai singoli operatori. Tutto questo per dire che sicuramente è necessario poter arrivare alla creazione, all'istituzione di un nuovo istituto. Il sovraffollamento. Il sovraffollamento al momento è contenuto per l'Istituto di Pordenone proprio perché, dovendo attingere a questi lavori di ordinaria manutenzione, sono state sospese le assegnazioni, gli ingressi della libertà nell'istituto, perché non siamo in grado di garantire l'isolamento Covid, perché dobbiamo utilizzare le stanze che avevamo destinato per l'isolamento Covid, che sono le uniche due stanze dove ci sono le docce in camera, le dovremmo utilizzare come docce per tutta la popolazione detenuta. Quindi non possiamo ricevere, perché non possiamo isolare le persone che entrano dalla libertà. Le difficoltà ci sono, sono quotidiane, ripeto, io le sto imparando quotidiane, le vivo quotidianamente per le due giornate a settimana in cui mi trovo a Pordenone. Chiaro che un istituto, da quello che ho sentito, dovrebbe viaggiare all'incirca come capienza intorno ai 300 detenuti, ha tutto un altro impatto anche sul territorio cittadino. Avrà un impatto anche di diversità, immagini o di tipologie di utenza detenuta. In questo momento Pordenone ha una sezione di media sicurezza, quindi di detenuti cosiddetti comuni, una sezione ed è l'unico istituto nella regione ad averlo invece di protetti, soprattutto di persone che sono state condannate o sono imputate di reati inerenti alla sfera sessuale. Quindi è una sezione anche un po' particolare che avrebbe bisogno di risorse anche in termini di percorsi psicologici strutturati in un certo modo e di percorsi riabilitativi particolari. Adesso per carità l'amministrazione quest'anno ha anche investito su questo tema del supporto psicologico per le persone, i rei, diciamo di reati contro le donne. Però il fatto di non avere spazi sufficienti sicuramente ci crea delle difficoltà perché proprio adesso con l'arrivo di 5 esperti psicologi alle volte non riusciamo ad avere una stanza che possa essere utilizzata perché sono costrette a diversificarsi altrimenti si sovrappongono e non ci sono gli spazi. Quindi questo per dire che il mio augurio è che davvero questa volta la partenza non sia una falsa partenza in qualche modo e in tempi adeguati ovviamente ma non lontanissimi Pordenone anche se non è il comune di Pordenone ma è il comune di San Vito al Tagliamento possa avere un istituto degno di questo nome che consenta veramente a noi dell'amministrazione penitenziale di perseguire quello che è la nostra missione istituzionale in pieno rispetto dell'articolo 27 ma consenta anche al personale di vivere e di lavorare in condizioni dignitose perché poi alla fine è un po' detto in termini molto semplici se stanno bene i detenuti sta bene anche il personale ma poi è viceversa se il personale lavora in un ambiente sereno anche c'è una disponibilità diversa rispetto all'ascolto delle esigenze e dei bisogni della popolazione detenuta. Io mi fermerei qui e ringrazio ancora. Grazie, grazie alla dottoressa Iannucci adesso il Presidente Contessi Ance Friuli Venezia Giulia Prego Eccoci qua Intanto saluto tutti grazie per aver convocato la mia persona ma chiaramente io sono non solamente un delegato della nostra associazione e quindi ringrazio il Sindaco per questa attenzione ma soprattutto volevo esprimere proprio i miei personalissimi complimenti all'amministrazione in generale perché un'amministrazione che si mette in campo per realizzare un'opera strategica come un carcere e riesce a portarla a termine al tempo d'oggi credo che sia un successo di non poco conto quindi i miei complimenti in assoluto all'amministrazione di San Vito perché piazza o non piazza queste sono strutture di cui il Paese necessita sempre di più visto i momenti che corriamo e riuscire a convincere un po' tutti sulla bontà di una scelta del genere non credo sia un lavoro semplice per quanto riguarda poi l'appalto e come ho già avuto modo di discutere prima col Sindaco ovviamente un appalto di questa portata economica sul nostro territorio non è che lo troviamo ogni settimana è molto difficile trovare gare di questa portata in Friuli Venezia Giulia pertanto sarà sicuramente portare una ricaduta sicuramente sul territorio sull'indotto perché il nostro settore rispetto alla base d'appalto poi distribuisce su tutte le attività che sono corollario della nostra circa tre volte l'importo di partenza credo quindi che sarà un successo e una boccata d'ossigeno dopo questo lungo periodo in cui più o meno tutti hanno avuto dei problemi e pertanto c'è la fondata speranza che ci siano molti lati positivi su una decisione politica come alla fine rimane la realizzazione di un'opera pubblica sul bando ho notato che ci sono delle caratteristiche stringenti sul tipo di impresa da scegliere che vanno un attimino ad entrare anche nella qualificazione tecnica delle aziende e questo è molto importante per noi perché molte volte purtroppo le aziende hanno tutte le certificazioni ma poi andiamo a vedere sotto sotto sono solo pezzi di carta e non c'è struttura mentre in questo bando ho visto che hanno dato attenzione sia alla parte tecnica ma soprattutto alla parte anche come posso dire di una correttezza istituzionale c'è un capitolo che premia il rating di legalità molti di voi forse non lo conoscono però il rating di legalità per un'azienda credetemi è molto difficile da ottenere perché stiamo parlando che non può avere subito negli ultimi due anni delle sanzioni amministrative che superano mi sembra i 3.000 o 3.200 euro quindi onestamente è quasi impossibile perché quando c'è un controllo di un esplorato del lavoro anche se trovano la più piccola delle difformità le sanzioni partono dai 500 euro in più e quindi chi ha i rating di legalità onestamente oggi andrebbe premiato di più perché vuol dire che fa le cose per bene o perlomeno fa le cose con molta più attenzione di chi magari non ce l'ha pertanto sono molto soddisfatto dei requisiti che sono stati inseriti nel bando per la scelta delle imprese ovviamente il nostro territorio non ha imprese non ha più purtroppo aggiungo imprese che possono concorrere da sole su un appalto del genere perché i dieci anni di crisi le hanno falciliate ne è rimasta qualcuno ma c'è sempre come diceva Sine quella possibilità di creare delle associazioni dei consorzi per poter portare avanti poi la propria proposta rientrando nelle caratteristiche dimensionali che il bando richiede quindi concludendo io di nuovo ringrazio il sindaco lo ringrazio diciamo per i due motivi che ho già anticipato all'inizio del mio intervento mi auguro che questo bando abbia più fortuna di quello precedente speriamo che siano state controllate soprattutto tutta la parte economica perché molte volte questi grandi appalti subiscono un iter molto lungo come poi il sindaco ci ha spiegato tenete presente che noi negli ultimi otto mesi abbiamo avuto dei rincari dei materiali che sono del 300-400% quindi capite che un iter che dura anni solo per poter uscire e dare la possibilità alle imprese di fare un'offerta se nel mezzo ci sono queste problematiche e la revisione prezzi ormai non è più considerata come era magari 15 anni fa perché l'inflazione non esiste per le imprese molte volte è difficile anche confrontarsi quindi capita che l'impresa fa l'offerta e prima di cominciare il lavoro va dal sindaco a dire guardi che non va bene questo non va bene questo non va bene questo e si ritorna a far ripartire questo circolo vizioso che poi purtroppo blocca le opere pubbliche è vero che il nostro territorio sotto questo profilo le nostre aziende sono abbastanza virtuose quindi non hanno un abito di questo ad usare questi strumenti perché siamo una comunità alla fine piccola quindi si trova sempre fra persone di buon senso credo che le strade si trovano sempre però ci arriva un'azienda da fuori più grosso è l'azienda più pericoloso più pericolo c'è per l'amministrazione quindi io faccio gli auguri a tutti auspico ovviamente che le nostre aziende territoriali abbiano fortuna e faccio un augurio molto grande al sindaco che so che è in scadenza perché credo che questa opera il giorno che sarà completata sarà un fiore all'occhiello della sua carriera perché ripeto non è facile lo vediamo sui giornali ogni giorno riuscire a convincere tutti che certe opere strategiche sono ormai indispensabili non si può pensare che a casa mia no a casa tua sì cioè dobbiamo avere un pochettino più di senso di comunità perché senza queste opere qui il paese non può andare avanti quindi grazie a tutti bene la parola al dottor Federico Facchin no no porto io non ti preoccupare sì la cura della Repubblica di Pordenone e il dottor Tito attuale procuratore che oggi non poteva essere presente ma manda il suo cordialissimo saluto segue con particolare attenzione le vicende del carcere insomma noi produciamo i clienti del carcere se c'è gente che ci va dentro è perché ce ne mandiamo dentro noi altri noi e i giudici questa è in maniera molto pratica quindi abbiamo una particolare attenzione ma vorrei che fosse chiaro che noi non siamo i biechi pubblici ministeri i biechi giustizieri anche se qualcuno la pensa diversamente che si diverte a scaraventare persone dentro il carcere per il gusto di farlo noi cerchiamo di applicare la legge penale e ci preoccupiamo anche che siano osservate tutte le disposizioni di legge in particolare tutte quelle che devono prevedere e garantiscono ai cittadini provvisoriamente in carcere tutti i deritti di cui hanno derito e il loro benessere per quanto compatibile con la particolarità della situazione carceraria quindi in questo contesto il fatto che a Pordenone sia esistente il carcere nel castello è una cosa che ha sempre suscitato in chiunque sia chi appartiene al mondo giudiziario e quindi ammucati magistrati ma sia anche presso altre persone sensibili a queste vicende ha sempre suscitato una grande direi quasi non dicono scandalo ma anche scandalo ma grande preoccupazione il carcere a Pordenone assende come è stato giustamente detto dalla torre dell'elettrice e nel castello il castello dovrebbe essere il più importante monumento storico di Pordenone è un castello del 1300 1400 che appunto era un castello poi a un certo punto è diventato un carcere e dobbiamo anche dire che già a suo tempo vennero la città di Pordenone presso cui si trova ha sempre cercato diciamo di individuare soluzioni alternative al carcere nel comune nel territorio di Pordenone dobbiamo anche dire che però nessuna soluzione è mai stata trovata se vogliamo anche risalire alla fine della seconda guerra mondiale è giusto per dare un termine per impostare una concezione democratica delle cose in 80 anni 75 anni il comune di Pordenone non ha mai individuato un sito a Pordenone dove costruire il carcere ora noi sappiamo che forse non tutti cioè quelli che non sono dell'ambiente ma una prova anche detto che una delle critiche immediatamente emerse quando era immersa l'ipotesi di fare il carcere a seguito a tagliamento è che il carcere come tale deve essere il più vicino possibile al palazzo di giustizia il palazzo di giustizia deve essere contigo il più possibile al carcere a Trieste addirittura al carcere del coroneo ci sono dei camminamenti sotterrani dove i detenuti e gli avvocati e la gente può transitare per accendere dal carcere fino alle albe di giustizia e tornare indietro senza neanche passare per strada perché il problema è che c'è una serie di attività e di incombenze di incontri di contatti che devono inevitabilmente richiederebbero una presenza una contiguità fisica tra la scende del carcere e il palazzo di giustizia il trasporto dei detenuti le scorte teniamo conto che occorrono tre agenti di scorte per ogni detenuto quindi ci sono parametri per stabiliti e portare il detenuto dal carcere all'attuale palazzo di giustizia che è distante praticamente linea d'aria 100 metri attuali è una cosa molto più semplice che come dovrebbe come sarà trasferimenti di 20 chilometri come quelli tra il carcere di Pordenone tra il palazzo di giustizia di Pordenone e il carcere di San Vito quindi gli ambienti ecco questo per dire che storicamente si è manifestata questa criticità da parte di tutti gli ambienti specialmente da parte degli avvocati dei magistrati da altre gente ed è Pordenonesi ma tutta parte però bisogna anche dire che non essendo vista da alcuna soluzione è meritoria ed è assolutamente quasi unica nel panorama nazionale la disponibilità manifestata da un comune quello di San Vito che invece ha detto facciamo il carcere a San Vito e l'attuale sede era la seconda sede perché la prima era stata individuata nell'area della Torricella quindi sulla strada San Vito-Bania anche leggermente più vicina a Pordenone però questo è lo stato di fatto delle cose e non resta che per deneato e certo comporterà se partirà comporterà dei problemi ma in ogni caso ad esempio a Padova c'è il carcere dei due palazzi e anche quello distante parecchi chilometri dal palazzo di giustizia non sarebbe l'unico caso in Italia per dire quindi questa è la vicenda l'opera quindi per come si presenta indubbiamente succede enorme interesse sarebbe un carcere all'avanguardia addirittura con 300 detenuti capienza massima ipotesi ci potremmo domandare se sicuramente non è che noi produciamo 300 detenuti a Pordenone in zona o in zona limitrofe qualcuno dirà che noi vorremmo farlo ma in realtà ormai si arresta sempre meno teniamo conto anche che va tenuta presente in una logica complessiva per avere una idea più precisa che c'è appunto una diciamo una concezione generale di decarcerazione che comporta l'ammanazione di provvedimenti legislativi da diverso tempo a questa parte e che si intensificano volte a evitare l'inserimento al carcere della persona che dovrebbe fare una pena detentiva viene tenuta fuori dal carcere e si assegna a tanti servizi alternativi detenzione domiciliare e altre ci sono tante svariate possibilità e l'orientamento attuale aumenta quindi la prospettiva il trend dovrebbe essere non l'aumento dei carcerati ma la loro diminuzione questa è un'altra cosa che va considerata e un'altra cosa importante e ad esempio avevo già manifestato quella volta qualche rilievo poteva essere approfittare di una struttura imponente perché sarà senza altro una struttura imponente come questa per restituire anche una sezione femminile la sezione per carcerate donne l'attuale situazione nel diciamo nell'ambito diciamo della nostra territoria del territorio diciamo di questa parte del nordeste è che come forse saprete non esiste una sezione femminile presa ogni casa secondariale esiste naturalmente una sezione femminile al Trieste al Coroneo e una a Venezia alla Giudica che è un'isola per cui praticamente i soggetti l'arrestata dovrebbe venire portata con l'imbarcazione partendo da Venezia e trasferita sull'isola una roba medievale una roba faraginosa che impiega enorme dispendio di energie magari poi per rimettere fuori quella persona dopo poche ore dopo il processo predirettissima cose incredibili ecco poteva c'era esisteva al carcere di Udine la sezione femminile ma venne chiusa diversi anni fa per motivi credo di agibilità di altre cose per sudorazione ecco mai fatti o comunque esito negativo infatti a Udine non si è più aperta la sezione femminile misti e beh misti va bene che c'è l'LGBT però potremmo anche fare la sezione LGBT a questo punto anche se vogliamo essere la vanguardia allora quindi San Vito invece avrebbe una posizione baricintrica fra Trieste e Venezia non c'è Udine c'è San Vito che siamo appena a 36 km ecco un'idea potrebbe essere quella di far su una sezione femminile visto che il carcere era così grande non sarebbe un'idea sbagliata credo vado un po' abbraccio dico anche un'altra cosa sappiamo perché hanno scienze dirette nostre che in Italia tante carceri vengono iniziate quando iniziano poi si fermano metà si fermano tre quarti poi finiscono e non vengono aperte ce ne sono diverse per motivi con i motivi apparentemente inspiegabili agibilità però siamo dinanzi a opere molto importanti a livello nazionale con tanti soldi che girano e qui mi fermo allora a questo punto noi speriamo che se un carcere simile che è grande tra cento detenuti se riesce veramente a partire vada veramente in porto e poi venga anche aperto cito un'esperienza una conoscenza personale negli anni 90 ero operatore a Porto Gruaro all'epoca Porto Gruaro aveva sede in un bellissimo palazzo veneziano Palazzo Venanzio un palazzo del 500 di fronte al Marconi Palazzo Venanzio questo era il palazzo di Porto Gruaro attaccato a questo palazzo c'era il carcere mandamentale costruito ex nuovo negli anni inizio anni 90 questo bel carcere ho fatto dentro perché il operatore ha fatto un bel giro ma bello parliamo a metà anni 90 io mi ricordo che c'era un bel televisore credo in bianco nero messo sopra la stipita della porta con la gratta c'erano cellie appena due posti e ciascuno aveva il suo bagno separato cioè il suo bagnetto c'era stato un 22 22 posti mai aperto non c'è entrato una sola persona neanche per sbaglio ma neanche per sbaglio quella volta veniva utilizzato come deposito del materiale elettorale per le elezioni e poi alla fine è diventato una dependenza del giudice di pace di Portoguaro sembra avevo provato a leggere qualche altro che avevo trovato in pretura che poi non è che ci fosse una comunicazione di queste cose con il giudizio giudiziario sembra che il problema forse è che non era garantita una sicurezza perché essendo lì nel centro di Portoguaro confinava col parco retrostante c'era il muro uno si potrebbe dire e perché cavolo non l'avete fatto però è stato fatto i soldi sono stati spesi più di miliardo di lire dell'epoca mai aperto e mai utilizzato quindi questa è la fine del carcere di Portoguaro ma neanche per i semi liberi per gente che magari nelle condizioni magari che deve andare in cela solo a dormire neanche quello perché ci possono essere varie modalità di utilizzo anche delle strutture minori mentre gente senza buttarli dentro questa è la situazione quindi speriamo che abbia un qualche esito almeno parziale va anche tenuto conto e questo ha evidenziato che nel carcere non ci vivono solo i detenuti ci vivono anche gli agenti di polizia penitenziaria che dovrebbero essere numerosi per garantire 300 detenuti non so se altre tanti ma diventa veramente un numero imponente e allora siccome nello stesso ambiente ci sono i detenuti va tenuto conto che i diritti e la salute è anche quella della polizia penitenziaria cioè di coloro che lì ci lavorano perché vivono sempre lì nello stesso ambiente Portoguaro non garantisce nulla sotto questo punto di vista speriamo che nel carcere di un carcere così grande sarebbe veramente una cosa diversa teniamo conto anche che potrebbe essere luogo per sperimentazioni per fare robe alternative alla detenzione per fare attività didattiche per insegnare un mestiere e fare attività sportive tantissime cose che attualmente sicuramente difficilmente vengono fatte e tanto meno pordenone nell'attuale situazione ecco io ho parlato un po' così a Brass e non voglio far perdere altro tempo comunque questa è la situazione e speriamo l'ultima cosa sicuramente avrebbe un impatto economico notevole sul territorio una roba simile perché sarebbe un'industria permanente un'industria permanente centenaia di persone che ci lavorano quindi immobili da affitare ditte che forniscono qualsiasi cosa un effetto un volano per l'attività economica importante e se vada in porto ripeto io spero che vada in porto la procura spera che vada in porto le settazioni generali come indicate pogono una serie di dubbi generali speriamo sicuramente se questa cosa andrà in porto sarà un merito notevolissimo del comune di San Vinto Tagliamento un tra poco in Italia e io concludo con una battuta siccome spesso si intitolano le caserme al gergente caduta nelle ondeficenze se andasse in porto potremmo intitolarlo casa secondariale onorevole Antonio Di Bicegliae io voglio vivere non voglio sì per farlo come nome esterno bene grazie grazie al dottor Fachin adesso la parola all'avvocato Esmeralda De Riso che è in rappresentanza della Camera Penale e anche dell'ordine degli avvocati prevo buongiorno a tutti ringrazio da parte del Presidente del Consigliere di Pordenone Antonio Rubial dell'invito ringrazio a nome del Presidente della Camera Penale Roberto Lombardini che è il Sindaco che ci ha voluto qui e spenderò due parole anche grazie a quanto ci ha appena illustrato il dottor Fachin l'avvocatura è vero negli anni è stata un po' critica sulla scelta del sito a San Vito ma non perché ce l'abbiamo con San Vito ma perché perché riteniamo che sia e dovrebbe essere migliore una scelta più vicina al Tribunale di Pordenone come ha ricordato il dottor Fachin ovvio che però apprezziamo ed è stata apprezzata la disponibilità del comune di San Vito di dare la disponibilità di trovare il sito anche perché quello che interessa all'avvocatura ma quello che dovrebbe interessare a tutti è che i detenuti stiano bene e che la polizia giudiziaria possa penitenziaria scusate possa lavorare nelle migliori delle condizioni cosa che adesso non è l'esperienza che ho io diretta del carcere di Pordenone sono vent'anni che lo frequento da semilibera o da libera secondo i momenti nel senso che ci sono dei momenti in cui sto molto dentro con i miei assistiti ma poi posso uscire e l'Unione Camere Penali italiane sta facendo da diversi anni una una manifestazione che si chiama Ferragosto in carcere gli avvocati delegati in ogni città in cui c'è una casa circondariale una casa custodiale possono andare a visitare le celle o le camere di pernottamento come si chiamano adesso e rendersi conto di quella che è la situazione vera perché si leggono nei giornali che la gente deve stare dentro se si commettono determinati dati non si ha diritto di stare fuori bisogna essere incarcerati non è questa la sede e quindi non voglio dare spiegazione a questo però l'importante è una persona commette un errore viene condannato oppure è in custodia cautelare deve stare in carcere ma non è un animale come non sono degli animali gli agenti di polizia penitenziaria devono tutti convivere in modo dignitoso e secondo delle regole almeno minime di dignità e di sicurezza ora il corso di Pordenone come diceva la dottoressa è in condizioni veramente critiche però quello che noi due anni l'anno scorso non è stato possibile entrare perché c'era il covid io ho fatto parte della delegazione che è entrata in carcere a Pordenone e siamo state con la collega Soveri siamo state all'interno proprio delle celle all'interno del carcere ovviamente con la gente di custodia perché non è che ecco e abbiamo visto la sala quella che è stata dipinta anche dai detenuti quella sopra siamo state fuori a vedere al di fuori delle cinta avevano per esempio iniziato grazie a chi di noi non ha conosciuto Mario Sartor con la cooperativa Oasi avevano iniziato un progetto per cui avevano iniziato a coltivare un orto di erbe per dare comunque la possibilità a erbe aromatiche per dare la possibilità a queste persone di non stare solo chiuse ma di rendersi utili poi raccoglievano e cucinavano il progetto è saltato perché è venuto a meno la dottoressa meglio di me la forza la polizia penitenziaria sono sempre in meno loro sono veramente pochi e non riescono a gestire queste ulteriori attività al di là degli spazi che ovviamente sono diciamo risicati gli stessi avvocati non possono se ci sono tre avvocati dobbiamo aspettare ore perché c'è una sala e delle volte ci danno e della sala in cui vengono effettuati i colloqui con i familiari la sala che ci danno e possiamo essere un avvocato con un detenuto perché non per questione di privacy e di sicurezza ogni tanto ci viene ogni tanto ci viene data quando gli educatori gli psicologi non devono fare gli incontri ci viene data una stanza un po' più piccola in cui possiamo effettuare i colloqui c'è la sala dei magistrati che anche il dottor Facchin conosce che anche quella è diciamo è decorosa però allora quando non ci sono i magistrati che effettuano i loro incombenti ci danno quella quindi c'è una collaborazione veramente tra la casa circondaria l'amministrazione e l'avvocatura però rimane il problema del carcere e delle situazioni la dottoressa ricordava delle docce ora se non vado errato la capienza massima sono 60 65 detenuti sarebbe ecco allora dovete sapere che ci sono 5 docce per 60 65 detenuti in uno stanzone in cui ci sono queste docce messe tipo i film che si vedono a parete con questi soffioni a parete ci sono delle dei come posso dire dei muretti di cemento e quello che dico in ogni cella a parte le due che ricordava la dottoressa non c'è a parte non c'è se ci la doccia vabbè ma non c'è l'acqua calda non c'è l'acqua calda per cui i detenuti hanno il lavandino hanno l'acqua fredda e hanno il vc io ho avuto la sfortuna o fortuna non lo so 20 anni fa di eseguire di assistere ad una perquisizione in cella che all'epoca si chiama cella e quindi camera di pernottamento e e quindi io sono ero giovane ero giovane giovane e sono rimasta perché erano c'erano il castello quindi erano in sei in cella erano in sei all'epoca però quello che mi ha era molto più ordinata della mia camera perché loro imparano a tenere ordine e ad avere i loro spazi però anche a condividere il cibo e a condividere quello che possono sono persone come noi che hanno commesso degli errori e il fatto che ci sia un'amministrazione che intende dare la possibilità di costruire questo carcere in cui possano vivere tutti in modo dignitoso insieme in sinergia con la polizia penitenziaria è un'ottima l'avvocatura ovviamente ne è contenta l'avvocatura di Pordenone soprattutto richiederà sacrifici da parte di tutti dagli avvocati dai pubblici ministeri dai magistrati che così magari vengono anche loro in carcere un po' più spesso e si rendono conto della situazione in cui i detenuti vivono e devo dire però che a fronte della visita che abbiamo effettuato due anni fa perché quando noi avvocati andiamo in carcere non possiamo entrare noi abbiamo appunto come dicevo prima le nostre stanze però quello che abbiamo detto è la polizia penitenziaria di Pordenone è formata da personale davvero in gamba e che riesce adesso a farsi voler bene dalle persone detenute e quindi entrambe le parti vivono in sinergia e lavorano insieme con le criticità che ci sono e grazie a questo riescono a convivere seppure in una situazione molto molto critica finisco lasciando una diciamo una riflessione va tutto bene il carcere sarà meraviglioso speriamo che lo aprano e tutto andrà bene però bisognerà anche secondo noi che l'amministrazione insieme all'amministrazione di San Vito l'amministrazione del Ministero pensino ai familiari dei detenuti perché Pordenone è in un posto in cui c'è la c'è la stazione delle corriere c'è la stazione dei treni si arriva facilmente non tutti i familiari hanno una tua vettura non tutti possono arrivare in carcere a piedi come si può arrivare in stazione a Pordenone allora bisognerà e questo è solo una riflessione bisognerà che qualcuno pensi ad aumentare l'indotto dei servizi che possono permettere alle persone detenute di ricevere i propri familiari senza troppi sacrifici ringrazio ancora per l'invito e in bocca al lupo per questo grandissimo progetto grazie te trepi te trepi bene siamo giunti alla conclusione io voglio rinnovare ringraziamenti ovviamente a chi è intervenuto a tutti i presenti e riassumerei in questo modo noi l'incontro l'abbiamo fatto perché ci siamo sempre impegnati il consiglio comunale si è espresso credo che questo vada sempre sottolineato da un titolo di merito del consiglio comunale unanime per quanto riguarda la realizzazione del carcere a San Vito detto questo noi adesso entriamo in una fase nella quale c'è la necessità che il comune svolga un'opera di attenzione di monitoraggio perché ogni passaggio possa essere realizzato allora partiamo dal bando abbiamo detto una cosa importante perché sembra quasi 9 settembre l'offerta 9 settembre io voglio salutare molto positivamente questo aspetto previsto nel bando perché sono pochi i bandi che prevedono tempi così stringenti per quanto riguarda le offerte il fatto di aver messo il 9 è certo però è importante perché è il segno ne avevo avuto modo di parlare con la donoressa zincone alla quale permettete di esprimere la mia totale solidarietà lo dico e lo ribadisco è un termine molto molto importante perché poi si va al 14 settembre come prima seduta della commissione cioè per il primo esame la definizione dei criteri ma questo perché indica che almeno per chi ha emesso il bando c'è una volontà reale concreta determinata di procedere alla realizzazione di questa infrastruttura secondo punto è stato toccato mi fa molto piacere che l'abbia ripreso il dottor Fakhin cioè per una comunità come San Vito avere il carcere ha una ricaduta economica notevolissima perché non siamo una grande città non siamo credo che questo allora avere un luogo dove andranno 300 persone e altrettante guardie sostanzialmente quindi un luogo dove ogni mattina no c'è la vita di quella beh significa come capite facilmente l'impatto economico che ha poi nel rapporto con la comunità ma questo io lo voglio dire anche per quanto riguarda la realizzazione del carcere ha fatto bene il presidente Contessi a ricordarlo perché è ovvio che tutto l'indotto non potrà e non dovrà dico io non avere un rapporto con il locale con il territorio questo è un altro elemento di particolare importanza andiamo poi a un altro aspetto che qui è stato ricordato cioè quello che è scritto nella costituzione perché anche qui il carcere deve essere costruito per favorire il recupero della persona allora sia la realizzazione del carcere sia l'altro aspetto è stato ricordato dalla dottoressa Annucci poi ripreso cioè è chiaro che si tratterà anche qui e qui tra l'altro moltissime ormai sono gli antilocali moltissime sono le iniziative nelle carcere io uno di quelli ricordo il panettone dei detenuti di Padova perché il dottor Sbriglia me l'ha fatto e via di sé ma voglio dire è chiaro che si tratterà di mettere in piedi chi ovviamente sarà dovrà mettere in piedi quei programmi che permettono nel carcere di fare i corsi di formazione io lo ricordo perché come sapete un grande poeta italiano De Angelis svolge attività al carcere di Milano all'Opera proprio questi corsi di formazione che vengono portati ma all'interno dicevo di una serie di programmi che dovranno essere messi in piedi in un rapporto dell'ente locale con con la direzione con la direzione del carcere e poi c'è l'altra cosa che ricordava qui l'avvocato Esmeralda allora diciamo tre cose la prima il comune di San Vito si è offerto perché il comune di Pordenone io ho vissuto questa vicenda dall'inizio da quando era sindaco Pasini ricordo quando ho partecipato una riunione da parlamentare in cui il sindaco Pasini disse che Pordenone non voleva farci tombale all'epoca c'era il povero profetto morto di Pasquale il quale non credo perché c'erano le risorse per poterlo fare ma non voleva sentire la propria ricche questa ci fu un nuovo incontro dei parlamentari con il sindaco Pasini in cui fu ribadito da parte del sindaco Pasini questo ecco perché poi gradualmente senza adesso riprendere è emersa è emersa San Vito per quanto riguarda questo perché altrimenti saremo ancora lì per essere precisi voi capite bene che in qualche modo almeno 3-4 persone al giorno andranno a visitare 300 sommi detenuti quindi non è che andranno tutti lo stesso giorno ma avranno degli appuntamenti ed è chiaro allora che potranno venire in treno ovviamente o in corriere ma a corriere è più agevole poi il fatto del collegamento oppure in treno ma questo capite che quindi apre quello che non potrà non essere un ragionamento a tutto tondo di riguardante questa infrastruttura in questo contesto con ciò che porta con sé e qui faccio una battuta raccogliendo quello che diceva il dottor Fachin noi avevamo già definito e avevamo già individuato il luogo per quanto riguarda la sezione femminile ne avevamo parlato proprio con il dottor Sbriglia che era provveditore delle opere penitenziarie del Triveneto e tra l'altro avevamo anche ipotizzato adesso Camera Caritatis vicino all'attuale caserma c'è un'ampia disponibilità per quanto riguarda ma poteva esserci anche all'interno del perimetro della caserma la possibilità che di ospitare quella che viene chiamata sezione femminile visto che non è possibile più e visto come è stato ricordato che praticamente o Trieste o Venezia perché udile non c'è più quindi io mi permetto di dire che quella vecchia disponibilità a tutti gli effetti rimane il problema e qui pongo un tema il problema all'epoca era delle risorse e oggi c'è delle risorse io credo che noi non abbiamo sufficientemente riflettuto su quello che è il cosiddetto piano di resilienza di ripresa e resilienza perché ci sono molti finanziamenti dedicati alla giustizia e dentro alla giustizia all'edilizia carceraria bisogna ovviamente pensare a questo bisogna pensare a questo e cominciare a ragionare intorno a questo per quanto riguarda a me fa piacere che ci sia stato un adeguamento per quanto riguarda qui il valore stimato a base di gara pari a 39.850.000 ma nel momento in cui si fanno queste è chiaro che si tratta non di fermarsi ma proprio per le sollecitazioni che sono state avute ma anche perché guardate che insomma preoccuparsi di questi aspetti è fondamentale in una società che vuole essere civile perché noi abbiamo sempre detto che vogliamo che ci sia la possibilità dell'espletamento della pena per la certezza della medesima ma anche accompagnato adesso il recupero della persona quindi non una pena soltanto in un'ottica repressiva ma in un'ottica di recupero della persona come la costituzione ci dice io lo dico e lo sottolineo questo aspetto d'altra parte se siamo passati da cella a camera di pernottamento vogliamo che non sia semplicemente un cambiamento di nome ma abbia anche un svolgimento di ciò che deve essere detto questo io come dire vi ringrazio gli impegni che noi ci assumiamo per quanto possiamo assumerci ma credo in senso lato sono quelli di fare in modo che questo bando di gara rappresenti davvero la realizzazione di questo di questa infrastruttura ma lo dico anche perché mi pare che ci sia un interesse e una volontà corale per la sua realizzazione perché corrisponde ad una necessità e corrisponde di una necessità che non è di una piccola località ma che è dell'intera regione e del Friuli occidentale grazie e buona giornata grazie a tutti